Negli studi di TV City, le volontarie guardie zoofile del Corpo Gav di Torre del Greco per promuovere una raccolta fondi. Noi siamo qui praticamente per dare una mano ad aiutare una persona che si è presa carico di un cagnolino che era una rinuncia di proprietà. A sua insaputa non conosceva le situazioni cliniche dell'animale, ha preso questo cagnolino con tanto amore ma poi si è reso conto dopo un mese che esistevano dei problemi. Il ragazzo si è subito prodigato ad andare da un veterinario, ha fatto tutti gli accertamenti dovuti ma purtroppo ci si è accorto che esistevano delle patologie già nell'animale innate proprie. Adesso questo cagnolino di che cosa ha bisogno? Allora questo cagnolino ha bisogno di essere ricoverato in una clinica a Milano dove si sono già messi a disposizione perché hanno già raccolto queste cartelle e hanno verificato il tutto e dovrà avere un intervento cardiologico, un intervento importante e impegnativo sotto tutti gli aspetti. Parliamo di una cifra di 3.500 euro. Purtroppo il ragazzo, diciamo, il cane non lo abbandonerà assolutamente. Chiede a noi come associazione e come appello fatto ai cittadini, alle persone, a tutti i volontari che siamo in campo di avere un aiuto. Lui si trasferirà il giorno 13 a Milano, il cagnolino verrà ricoverato, il ragazzo chiaramente dovrà restare lì e quindi affrontare altre spese sue. Noi quindi chiediamo, sensibilizziamo un po' tutti a questa cosa perché il cagnolino ha bisogno di questo intervento che per lui è un salvavita. Se non fa questo il cagnolino praticamente è destinato a morire. Attraverso il sito di TV City si potranno trovare tutte le info utili per partecipare a questa raccolta fondi? Sì, sì, sì. Quindi chiunque volesse partecipare, anche con poco, come si dice, la goccia riempie il vaso. Quindi a noi serve essere appoggiati in questo momento perché riteniamo di doverlo aiutare perché il ragazzo è demoralizzato e noi come ambientalisti, come zofili ci teniamo ad appoggiare questa causa.